Dopo diversi anni da solisti, componenti della piccola orchestra Avion Travel si sono riuniti per portare nelle piazze e nei teatri dello stivale tutti i vecchi successi. La vittoria a Sanremo e la recente scomparsa di uno dei componenti della storica band casertana, Fausto Mesolella, non hanno intaccato le sonorità ricercate e spesso teatrali della band capitanata da Peppe Servillo, che ai nostri microfoni ha manifestato tutto il suo entusiasmo di di esser tornato su un'isola affascinante come l'Elba, che però dice di non conoscere come vorrebbe. Siamo venuti con l'Elba Travel due volte negli anni 90 e poi dopo di allora è la prima volta che ritorniamo. Ma non posso dire di conoscerla come mi piacerebbe. Ovviamente l'idea dell'isola di un'isola così grande a me fa pensare a Dischia anche, no? Quindi è un'isola con vari centri. Io quando sono venuto qua anche oggi ho chiesto dove era, sono ovviamente affascinato da un personaggio così importante come Napoleone, quindi dov'è la casa, dov'è il teatro che lui fece edificare per organizzare poi la fuga durante questa festa che si teneva nel teatro inaugurato. Quindi un personaggio singolare che evidentemente è inciso molto, però mi piacerebbe anche conoscere tanti altri aspetti perché sicuramente l'Elba non è solo questo. Il lavoro, anche le attività che si sono svolte in questi situazioni, sia di scavo e minerari, è vero, di agricoltura, insomma tutte cose che io non conosco come mi piacerebbe per poter dire davvero di conoscere l'Elba.